Ogni volta che pubblichiamo un vlog sulle nostre operazioni immobiliari riceviamo un putpourri di commenti veramente interessanti. Tra l'altro alcune di queste sono vere e proprie richieste di collaborazione, persone che ci propongono di investire con noi, persone che ci propongono immobili da acquistare, società nell'ambito dell'edilizia che vogliono collaborare con noi magari fornendo materiale per le ristrutturazioni e questo è ottimo per un imprenditore che lavora online, ma soprattutto commenti come questo. Ma meglio la borsa, i margini non sono elevati, nella migliore delle ipotesi per quanto riguarda questo progetto, se tutto va al meglio, pensa se poi le cose non vanno come previsto, non ti invidio proprio, rivediti i video di Buffett sugli immobili. Ma che cosa sta trascurando Massimo X che noi non abbiamo trascurato? Perché te l'assicuro, i video su Warren Buffett li abbiamo visti, li conosciamo molto bene. Che cosa sta trascurando e perché davvero l'immobiliare, se fatto come si deve, ed è come ti spiego oggi, un modo super efficace per far crescere il proprio patrimonio, te lo spiego in questo video. Lo sai che quando investi utilizzando piattaforme di crowdfunding, crowd investing, potresti finanziare un SRL, magari creata l'anno prima, magari senza capitale, e quindi dai i tuoi soldi ad un imprenditore che magari non è particolarmente affidabile? Ed è per questo che non lo finanziano in banca? Bene, per aiutarti ad avere sotto controllo questi rischi, abbiamo lanciato Crowd Revolution, il primo percorso che ti guida nell'interessantissimo mondo del crowd investing, tenendo sotto controllo i rischi e massimizzando il rendimento potenziale da questa innovativa modalità di investimento. Il percorso è in offerta lancio all'interno di Piano Finanziario fino al 28 di aprile. Puoi iscriverti cliccando sul link che trovi qui sotto, e cogliere l'offerta di lancio di questo nuovo servizio di Piano Finanziario. Ti aspetto, ciao! Aspetta Giorgio, ma tu vuoi contraddire Warren Buffett? Cioè se Warren Buffett ha detto di non investire in immobili, tu osi contraddirlo? Ebbene sì, perché non è che oso contraddirlo, il punto è che le persone devono abituarsi a leggere l'intero articolo, non solo il titolo, e soprattutto contestualizzare, ok? È un po' un mantra contestualizzare su questo canale, lo dico spesso che bisogna contestualizzare le informazioni che riceviamo. Perché? Perché leggiamo che cosa ha detto veramente Warren Buffett, e soprattutto, attenzione, stiamo parlando di Warren Buffett, che fino a qualche settimana fa aveva 150 miliardi di liquidità da investire. Possiamo paragonarci noi piccoli investitori? Tu puoi paragonarti a Warren Buffett? No. Io posso paragonarmi a Warren Buffett come capacità di investimento? No. Lui non va a cercare l'appartamentino, non va a cercare il borghetto nella periferia di Modena in cui andare a fare un'operazione immobiliare. Lui deve comprare non mille appartamenti alla volta, perché mille appartamenti li compri con, non so, 20 milioni di dollari negli Stati Uniti. Lui deve comprare 20.000 appartamenti alla volta se vuole fare un investimento che sia ragionato e ponderato per la disponibilità di capitale che ha a disposizione. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Dobbiamo contestualizzare quello che dice lui, che gestisce miliardi di dollari, non so quanto capitalizzi oggi Berkshire, ma solo di liquidità ne ha per 150 miliardi, e capire che noi non stiamo facendo lo stesso mestiere. Quindi qualunque cosa abbia detto Warren Buffett, questo non vuol dire smitizzarlo, perché rimane veramente uno degli investitori più saggi, che ha condiviso più conoscenze e soprattutto più profittevoli al mondo, ma lui fa un mestiere diverso. Quindi, che cosa ha detto Warren Buffett? Warren Buffett non è che ha detto non comprare immobili, ha detto che lui non compra immobili. Rental properties, ok? Quindi immobili, pensiamo che lui non è che può fare lo sviluppatore, non può comprare un campo e tirare su una palazzina, perché per la massa monetaria, per i soldi che ha a disposizione, cosa compri di terra con 150 miliardi di dollari, se mai volesse fare uno sviluppo immobiliare, è troppo grande, ok? Lui deve comprare dei business enormi, deve comprare delle società, come recentemente abbiamo commentato, ha acquistato un'assicurazione per 11 miliardi di dollari, ok? Quindi business, 30.000 dipendenti alla volta compra, non si può parlare di singole operazioni immobiliari, come quelle che facciamo noi. Quindi, perché non compra immobili da mettere a rendita? Tra l'altro, stiamo parlando di rental properties, quindi immobili da mettere a rendita, neanche sviluppo immobiliare, che è quello che facciamo noi, quindi non è neanche centrato il commento, perché se mai Warren Buffett ha appunto commentato il fatto che non compra immobili a reddito, che potrebbe essere all'interno di un REIT, Real Estate Investment Trust, ok? Dentro quei veicoli, nella maggior parte dei casi, ci sono immobili a reddito. E lui ha detto che non compra quelli, perché? Trovi vari video in cui spiega la ragione di questa decisione, è fuori dal suo cerchio di competenze, cioè non se ne intende. Ci sono problemi fiscali, nel senso che non sarebbe fiscalmente efficiente investire in REITs. La gestione è complicata se tu non sei un esperto, ok? Ma soprattutto, punto numero 4, il Real Estate, l'immobiliare, è poco probabile che sia fortemente mispriced. La parola chiave è mispriced, cioè prezzato in modo sbagliato, cioè vuol dire che è molto poco probabile trovare degli immobili, quando ne compri 10.000 alla volta, che abbiano un valore che si discosta molto dal prezzo. In altre parole, è molto difficile trovare immobili a sconto. Invece lui, essendo un value investor, è ossessionato dal trovare qualcosa a sconto, ok? Un investimento a sconto. E storicamente il suo approccio è sempre stato questo. Quindi ti dice, nell'immobiliare, quando compri 10.000 immobili alla volta, è difficile trovare dei mispricing, cioè vuol dire che il valore di questi 10.000 immobili è, dico una cifra a caso, un miliardo di dollari, ma tu in un qualche modo riesci a comprarlo a 800 milioni di dollari. C'è una differenza tra valore di quello che stai comprando e il prezzo, e quella è un'ottima opportunità per chi, come lui, è un investitore e vuole comprare cose a sconto. Bene, stiamo parlando di 10.000 immobili alla volta da acquistare. È il nostro caso? Non direi proprio. Per quanto tu abbia capacità finanziaria, tu non puoi comprare 10.000 immobili. Quindi, i 10.000 immobili, chi li compra? Solitamente un fondo, o un RITS, appunto, il quale fa delle valutazioni. Non sono neanche più immobili, sono righe all'interno di un database. C'è un indirizzo, ci sono i metri quadri, e si comprano così, un tanto al chilo. Non sono più immobili. Dobbiamo renderci conto che, quando si arriva a gestire tante proprietà, sono righe di un database con un patrimonio associato, e le puoi comprare veramente, senza neanche andare a guardare, ok? Compri delle righe di patrimonio. È difficile da concepire, per chi è abituato a pensare all'immobiliare, come quell'immobile tangibile, e che produce un singolo reddito, ma così non è quando compri 10.000 immobili, che producono un reddito per svariati milioni di dollari all'anno. Quindi questo concetto del mispricing, del fatto che compri qualcosa che non è apprezzato correttamente dal mercato, si applica giustamente ai RITS, non si applica nel nostro contesto. Primo, nostro contesto di piccoli investitori. Secondo, di piccoli investitori in Italia. Perché? Facciamo un esempio. Innanzitutto, caliamoci in Italia. In Italia si fanno i rogiti dal notaio. Come fai a sapere quanto vale il tuo immobile? È molto difficile, perché non ci sono strumenti centralizzati. Negli Stati Uniti c'è Zillow, che è un super sito che ti permette di capire, dato un immobile, quando è stato costruito per la prima volta, quando è stato venduto, a quanto è stato venduto, tutte le varie compravendite seguenti, l'andamento dei prezzi. Quando hai tutte queste informazioni, il mercato è incredibilmente più efficiente, perché è più difficile trovarle delle differenze tra il valore dell'immobile e il prezzo, perché abbiamo delle informazioni per riuscire a definire un prezzo giusto per l'immobile in questione. Ok, torniamo in Italia. Si fanno i rogiti. I rogiti vengono registrati dal notaio. E dove va questa informazione? Come facciamo a sapere a quanto è stato venduto l'appartamento al piano di sopra nel nostro palazzo? E non è facile. Ok, ci sono dei siti che ti permettono di scaricare i rogiti, ma è molto complesso. Queste informazioni non sono di dominio pubblico. Sì, puoi utilizzare l'osservatorio OMI, puoi usare borsini immobiliari, guardare un po' cosa dice il mercato nella zona in cui abiti o in cui vuoi acquistare un immobile, ma non sono informazioni di dominio pubblico. È molto difficile recuperarle. Di conseguenza c'è un forte mispricing. Ci possono essere delle condizioni in cui tu compri un immobile al 20% di sconto. Quali sono le altre ragioni che possono aiutarti ad avere un mispricing, cioè a comprare un immobile a un prezzo più basso del suo valore? Il fatto semplicemente che noi andiamo là con 200.000 euro in contanti e compriamo l'immobile e andiamo a rogito entro... Di solito sei tu il vincolo. Ok, nel senso che quando diciamo ok, l'offerta è questa andiamo a rogito tra una settimana, nella maggior parte dei casi è la persona che dice Eh no, aspetta, fermi tutti. Io non ho i documenti pronti. Non ho neanche il certificato di prestazione energetica. No, aspetta, dammi due settimane. Ok, quindi questa velocità nel fare un'offerta, nell'avere la disponibilità, genera opportunità di acquisto a sconto. Mispricing. E fin qua l'abbiamo capito. È ovvio che quando parli con dei fondi questa opportunità non ce l'hai. Perché l'opportunità ce l'hai quando vai a comprare da un privato. Se vai a comprare da un fondo che mette i suoi 10.000 immobili sul mercato, se non arriva Berkshire Hathaway arriva un altro fondo ed è ovvio che lì stai giocando a tutto un altro livello ed è molto difficile comprare a forte sconto, 20-30%. Perché le condizioni di acquisto sono completamente diverse. Come si fa a non capire questa differenza? Se non l'hai capita te la spiego io. Quindi se non l'hai ancora fatto clicca mi piace, iscriviti al canale perché adesso arriva il bello. Adesso arriva il bello. Perché nel commento si alludeva al fatto che l'operazione non avesse grandi utili. Sì, si parlava di circa 2 milioni di euro di lavori per un profitto di circa 3 milioni di euro. Ok? Che si sarebbe generato in quello che commentavamo era un cantiere da circa 24 mesi. Quindi uno dice generi un 50% di rendimento in 24 mesi. A spanne il 25% all'anno in realtà è un po' di meno perché c'è l'interesse composto ma facciamo finta che sia la stessa cosa. Generi un 22% all'anno non è tanto, giusto? Uno che sa selezionare i titoli uno dei tanti fuffaguru che puoi trovare online fa ben di più del 20% all'anno. Ma perché ti vai a impelagare negli immobili? Giusto? No! Sbagliato! E adesso ti spiego il perché. Innanzitutto perché il 20% all'anno con le azioni voglio vedere chi lo fa e chi lo fa per 10 anni di fila. E non ne ho ancora visti molti online. Anzi, non ne ho visto nessuno online. Vabbè. Perché la maggior parte delle persone vende corsi su come fare trading e non fa letteralmente il trading che insegna nei percorsi. Se no al 20% all'anno tutti ti tirerebbero dei soldi dietro per investirli. Un po' come stanno facendo con noi per gli immobili. Ma vediamo che cosa sta trascurando Massimo X e chi fa i conti della serva come questi. Ok? Dice beh 50% in due anni con tutti i rischi del caso 22% è un po' poco. Sì. Se trascuri questo aspetto. E per spiegartelo ci viene in aiuto Excel. In questa tabella vedi l'esposizione di un progetto simile. Ok? Al tempo zero paghi 2 milioni di euro. Ipotizzando tu debba avere subito tutta la disponibilità per l'acquisto dell'immobile che era 700 mila euro e per la ristrutturazione. Quindi arrotondiamo a 2 milioni. L'anno 1 hai il cantiere aperto e non incassi niente perché stai facendo i lavori. L'anno 2 vendi tutte le unità dell'immobile per 3 milioni di euro. Ok? Quindi il totale i flussi sono in uscita per 2 milioni. Zero non si muovono soldi se non perché li hai già messi in un conto corrente dedicato e quindi non c'è altro capitale che entra o esce da questo conto corrente se non per pagare le spese dell'impresa e di chi farà i lavori e all'anno 2 incassi il 100% della vendita delle unità. Ok? Quindi genero un utile di un milione l'internal rate of return quindi il rendimento dell'operazione è il 22% che non è proprio il 50% perché c'è un interesse composto eccetera. Quindi il COC è il cash on cash return quindi il rendimento che la tua liquidità ha generato. Ok? Generi un milione su due milioni di patrimonio che vai a utilizzare per questa operazione il rendimento cash on cash è del 50% e fin qua ci sta il 50% premesso che è un'operazione che abbiamo deciso di non fare per altre ragioni però avremmo potuto negoziare e invece che 700.000 che era il prezzo di acquisto fare una proposta per mezzo milione quindi ci saltavano fuori altri 200.000 euro di potenziale utile tenendo fisso il prezzo di vendita e di conseguenza saremo anche arrivati a un 25% anno su anno di rendimento. Che cosa non stiamo considerando qui o meglio qual è la premessa che c'è dietro questo calcolo che tutti i soldi vengano dagli investitori e chi l'ha detto e chi l'ha detto che debba essere così ok ipotizziamo adesso tu ci metta 50% di patrimonio e il 50% di leva va in banca e ti danno un milione di euro quindi al tempo zero tu hai un milione di euro di uscita ok un milione di euro te lo dà la banca te lo dà la banca ad un tasso di interesse ipotizzato del 4% numero inventati ma per far capire la logica ogni anno tu paghi 40.000 euro di interessi qui guarda è sbagliato ma lasciamolo tanto ti fa vedere comunque la forza di questo principio perché sono due anni in cui tu utilizzi 40.000 euro quindi li abbiamo applicati tre volte il 4% di interesse quindi 40.000 euro all'anno di interessi sta in piedi anche pagando interessi in eccesso quindi però questo ti fa capire che l'esposizione non è più 2 milioni ma è un milione perché un milione te lo dà la banca quindi ogni anno paghi 40.000 euro di interessi alla fine vendi 3 milioni di immobili devi rimborsare il milione alla banca quindi non hai più incassato 3 milioni ma ne incassi 1.960 il tuo utile diventa 8.80 però attenzione 8.80 su un milione fa 88% di cash on cash e fa 35% di rendimento annuale lordo ok troviamo qualcosa che rende il 35% all'anno ok con un business plan e non giocando alla roulette cominciano a essere numeri che per un investitore che opera nei mercati finanziari non sono particolarmente comuni ma c'è un altro tema che la maggior parte delle persone non considera che tu puoi anche farti pagare in anticipo da chi? da chi compra quindi tu puoi avere una doppia leva e questa seconda leva è spiegata qui tu puoi fare 50% di equity 50% di leva ma vendere sulla carta cosa che avremmo fatto se fossimo andati avanti con questo progetto vendere sulla carta gli immobili perché? perché di nuovo ce n'è poco in Italia più o meno sulle compravendite in un anno il 10% sono di immobili nuovi quindi chi vuole una casa nuova la paga in anticipo ok una fetta mica tutta ok però lascia un acconto quella conto finanziariamente fa una differenza importantissima perché? perché nel conto economico che ti insegna qualunque formatore online manca l'elemento finanziario manca il tempo cioè finché facciamo dei conti economici su operazioni da 9 mesi 6 mesi 6 all'interno dell'anno non c'è grossa differenza su quando incassi i soldi li vorresti incassare il prima possibile però anno su anno non fa la differenza diverso è se tu come fanno tutte le imprese immobiliari vendi un immobile un anno in anticipo ok perché lo stai ancora costruendo ma incassi già l'anticipo quindi fai il compromesso al compromesso incassi magari il 10% dell'ammontare poi vai a rogito e magari a rogito che è un anno prima la consegna incassi il 100% dell'ammontare questo finanziariamente stravolge i risultati dell'operazione e il perché lo vediamo in questo esempio se ipotizziamo di vendere metà degli immobili un anno prima ok quindi un milione e mezzo lo incasso un anno prima e un milione e mezzo lo incasso dopo pago sempre i miei interessi li abbiamo sovrastimati ma è per farti capire che tanto l'operazione sta in piedi lo stesso adesso io produco sempre 880.000 euro di utili come prima il numero non cambia la differenza è che adesso il mio IRR il mio rendimento medio anno è raddoppiato ok quindi a Massimo X e a tutti quelli che dicono che Warren Buffett ha detto che non si investe in immobili adesso dobbiamo trovare qualcuno che nei mercati finanziari riesca a generare un rendimento anno su anno del 67% certificato e non promesse da marinaio come quelle che puoi trovare online con qualunque forma di trading che la mente umana possa inventarsi ok un 67% anno su anno è un risultato notevole e attenzione non è cambiato l'utile totale dell'operazione è cambiato solo temporalmente come avviene l'incasso per tutti quelli che pensano che la difficoltà di investire in immobili sia capire quale immobile comprare no la difficoltà di investire in immobili è la gestione dei flussi finanziari è capire come si spostano i soldi come finanziare l'operazione e come far tornare il denaro più velocemente possibile per farlo girare in modo più velocemente possibile al 67% stiamo parlando di raddoppiare il capitale quasi all'incirca in due anni chiaramente se tu estremizzi e anticipi ulteriormente l'incasso ipotizzando di proprio cioè compri l'immobile metti il cartello inizia a vendere unità non neanche sulla carta cioè hai ancora gli edifici vecchi da demolire ok e in cassa metti 200.000 euro di anticipi 1.3 milione il primo anno e 1.5 milione il secondo bene l'utile è sempre lo stesso non è cambiato però adesso l'IRR è dell'80% ho praticamente raddoppiato il capitale in 24 mesi ovviamente non voglio semplificare questo è un lavoro molto complesso si parla di un cantiere difficile ci sono altre ragioni che non sto a spiegarti in questo video sul perché abbiamo deciso di non andare avanti con quell'operazione lì ma presuppone la possibilità di andare in banca e chiedere un milione di euro ok non è da tutti avere questa capacità di finanziamento quindi per riuscire a creare operazioni di questo tipo che come vedi da una banale compravendita di immobili quando inizia vendere in anticipo e inizia a usare la leva il rendimento quadruplica e non esiste nei mercati finanziari qualcosa che possa rendere così tanto con un business plan ok con una ragionevole certezza di risultato bene l'operazione diventa molto più interessante però ci tengo a sottolineare che è un lavoro fatto da imprenditori nell'ambito immobiliare ok per tutti quelli che dicono che ti basta fare due operazioni di trading all'anno no non funziona questa macchina può girare perché noi stiamo al momento acquistando un immobile al mese più o meno abbiamo bucato marzo ma forse ad aprile ne compriamo due perché abbiamo una macchina che sta girando c'è una struttura non lo può fare una persona singola questo lavoro ci vogliono professionisti ognuno con una specializzazione differente prova a immaginare qual è la mia specializzazione nel gruppo io di cantieri non so niente io mi occupo della parte finanziaria di fare tornare questi numeri ma ci vuole un gruppo di persone ci vogliono gli agenti immobiliari che ti vendono subito gli immobili appena hai comprato la proprietà e quindi si devono fidare di te perché hanno già fatto dei progetti con te ci vuole un'impresa che ti faccia ci lavori per tempo ah dimentichiamo tutti i bonus che ci sono non dico del 110% che per le società non conta parliamo dell'eco bonus e sisma bonus quelli ci sono anche per le società non ci sono aumenterebbero ulteriormente la redditività dell'operazione però l'obiettivo è farti capire che non inizi dall'oggi al domani a fare operazioni di questo tipo ancora noi non le abbiamo mai fatte però l'operazione di via Galilei da quando abbiamo acquistato a quando abbiamo incassato l'anticipo sono passati due mesi due mesi quindi non abbiamo incassato il totale ma abbiamo incassato una buona fetta circa il 10% bene ma dopo due mesi ok quindi quel 10% lì di capitale che rendimento ha avuto enorme di conseguenza aumenta tutto il rendimento dell'operazione ma soprattutto hai la sicurezza di poter andare a prendere un'altra operazione perché hai già venduto quella quindi il lavoro dell'investitore immobiliare si può fare si può fare a vari livelli si può fare senza leva si può fare senza struttura ed è ovvio che i rendimenti sono più bassi ma l'imprenditore immobiliare fatto come si deve ha una struttura fa più operazioni usa la leva bancaria usa l'anticipo che è l'acquisto da parte di chi andrà a comprare quella cosa lì e finanziariamente ottiene dei risultati che non sono in alcun modo paragonabili al piccolo imprenditore che fa un'operazione all'anno quindi ecco spiegato perché facciamo operazioni immobiliari te lo saresti mai detto e dire che Warren Buffett sottovaluta queste cose giusto no sbagliato è che queste sono opportunità a cui lui non può accedere non è che non può accedere perché non è bravo non può accedere perché lui investe miliardi di dollari alla volta e queste sono opportunità che può avere chi una piccola impresa immobiliare ok non stiamo parlando di fare sviluppi a Milano ok stiamo parlando di comprare un paio di immobili alla volta e fare queste operazioni beneficiando del mispricing perché abbiamo potere in fase di negoziazione in fase di acquisto possiamo usare la leva abbiamo tutti gli strumenti per riuscire a tirare fuori dei profitti molto interessanti queste cose non si possono fare nei mercati regolamentati e non le può fare Warren Buffett che gestisce miliardi di dollari quindi mi dispiace ma quando si fanno dei commenti o si leggono le notizie bisogna andare un po' più in profondità capire il perché qualcuno sta dicendo qualcosa e in che contesto sta facendo tali affermazioni quindi se vuoi aiutarci a comprare altri immobili non devi fare altro che cliccare mi piace perché con tutti i soldi che incassiamo dalle visualizzazioni di YouTube compreremo immobili no scherzo è impossibile ok queste operazioni si fanno perché ci sono investitori perché c'è il nostro capitale dentro eccetera però in ogni caso iscriviti al canale perché questi casi studio li può fare chi le operazioni le fa davvero e non i teorici che puoi trovare online clicca mi piace così ci fai capire che questi contenuti ti piacciono perché chi ne parla di queste cose online nessuno quindi con questo ti saluto e ci vediamo in un altro video ciao